Con un secondo tempo quasi perfetto, la Vibonese ribalta il risultato ed apre con una vittoria il girone di ritorno del campionato di Serie D. In effetti, anche nei primi 45 minuti, era stata la squadra di Modica a fare la partita. L'innesto dell'ultimo arrivato, il centramanti Samacchè, ha finalmente dato profondità e peso in attacco, ma ancora sottoporta, rimane difficile concludere. E così il Sanluca trova il gol al quarantesimo, grazie ad una punizione perfetta calciata dalle vecchie. Scoppia il caos al fischio dell'arbitro che sancisce la fine del primo tempo. Dalla parapiglia a centrocampo scaturiscono due cartellini rossi, uno per parte, Anselmo della Vibonese e proprio le vecchie del Sanluca. A pagare l'inferiorità numerica sono gli uomini di Cozza, con la Vibonese che rientra in campo con una carica in più e dopo cinque minuti trova il pareggio, grazie ad un infortunio di Agustin che infila la sua porta nel tentativo di rispondere ad un cross dalla sinistra di Traikovsky. Sette minuti dopo si compie il ribaltamento, Scafetta conclude con un tiro secco dopo dribbling al centro dell'area, la lunga cavalcata sulla fascia e porta in vantaggio il rosso-blu. Vibonese, padrone assoluto del campo, continua ad attaccare, non paga del vantaggio minimo e trova il terzo gol con uno dei migliori in campo. Balla il gol a circa una ventina di minuti dal termine e chiude di fatto la gara e la Vibonese fa così un importante passavanti in classifica. Ho preso ancora una volta gol sul calcio da fermo, lì è stata una prudezza del giocatore loro balistica e quindi ero rammaricato perché avevamo avuto 5-6 occasioni importanti per fare gol e però ero fiducioso perché la squadra stava bene, la squadra stava giocando bene, tanto che mi sono permesso di dire a fine primo tempo continuiamo perché ci sono i presupposti per ribaltare la partita. Non mi destava preoccupazione di gioco, è stata quella disattenzione che abbiamo fatto fallo e poi hanno fatto gol. quindi è chiaro che si era già giocato 45 minuti, quindi diciamo più passa il tempo, più ti viene l'ansia, più magari c'è la frenesia, questo fortunatamente non lo è stato perché abbiamo avuto la fortuna di fare l'1-1 presto e subito dopo abbiamo fatto il 2-1 quindi la squadra ha messo tutto a posto subito e poi ci sta pure che c'è anche una reazione della squadra avversaria ma creata sempre su situazione di palle da fermo, rimessa laterale, corner, quindi abbiamo lasciato qualche buco sul secondo palo dove hanno avuto qualche occasione per poter fare qualcosa di importante ma noi abbiamo sbagliato anche altri gol importanti quindi diciamo che sul risultato non la da dire, per come si è espressa la squadra in considerazione dal fatto che venivamo dal giorno 21 è stata l'ultima, quindi c'è stato un buon volume di lavoro, sai che quando si gioca la prima dopo tanto tempo può essere un'incognità per tutti quindi la risposta è stata positiva, la risposta è stata importante, la squadra ha reagito da squadra importante e quindi sono contento per loro. Grazie a tutti.